Eccoci pronti con le anticipazioni della prossima puntata di Roma incontra. Partiremo con l'attualità politica insieme a Michele Ainis, costituzionalista e firma di punta del Corriere della Sera. Lo faremo partendo dal suo ultimo libro in cui descrive dall'A alla Z il degrado dei rapporti politici e civili degli italiani. In questo alfabeto dello scontento non potremo non fermarci prima di tutto alla lettera G come guerra e allora ci affideremo allo spessore giuridico di Ainis per capire se quella dell'ISI è una guerra senza regole e se il nostro sistema istituzionale è pronto per un coinvolgimento in prima linea nella speranza che ci dica che non avremo bisogno di cambiare la Costituzione come la Francia. A seguire un focus di prestigio sull'economia con Fabrizio Viola, amministratore delegato del Montepaschi di Siena. Da lui prima di tutto ci faremo raccontare come ha rimesso in piedi la più antica e blasonata banca italiana dopo una lunga crisi da cui ha rischiato di non uscire viva e poi spazieremo su vari temi, dalla ripresa dell'economia all'euro, dall'integrazione bancaria europea ai tanti fattori di instabilità dell'economia internazionale e non mancheremo di analizzare lo stato di salute del nostro sistema bancario, spesso oggetto di un deprecabile tiro al bersaglio. Dalle banche all'energia con Carlo Tamburi, direttore della Country Italia di Enel. Con lui parleremo del cambio di pelle che vede protagonista il più grande operatore di energia elettrica italiano. Il futuro di Enel sono le rinnovabili e la banda larga, quale ruolo giocheranno le reti infrastrutturali e poi i mutamenti del mercato dell'energia, la lotta ai cambiamenti climatici, le bollette e molto altro ancora. Infine sarà nostro ospite un magistrato che per 46 anni è stato in prima linea contro mafia e terrorismo. Giancarlo Caselli, autore di un libro autobiografia in cui ripercorre, levandosi parecchi sassoline dalle scarpe, le vicende più scottanti che lo hanno visto protagonista, dalla lotta alle Brigate Rosse ai processi Andreotti e Dell'Utri fino al caso Notav. E poi con lui parleremo di agromafia, autentico cancro che mina un settore nevalgico della nostra economia. Per farlo sarà affiancato da Maurizio Zipponi, coordinatore della Fondazione UNA, un interessante progetto finalizzato a creare un nuovo equilibrio tra uomo, natura e ambiente. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per un'altra grande serata di Roma in Contra. Vi aspettiamo quindi lunedì 23 novembre alle ore 18.30 allo spazio teatrale di Palazzo Santa Chiara a Roma e mercoledì 25 in seconda serata su 17 emittenti regionali. Vi aspetto.